Ok, allora passiamo... passiamo oltre. Mario Cantone. Innanzitutto mi devo congratulare di ampio la vostra esposizione, un piano di merito. Scusami, ma che mi da presentare qui non è stupenda? Latina. Cerchete di presentarvi magari, Mario Cantone, tavolo, figurezza e lavora. La vicinanza di quanto riguarda. Mi congratulo con voi perché siete stati molto espliciti, anche le ritievi nell'espressione, perché è un po' l'anima che parlavo, di questo mi ha fatto molto piacere. Io sono abituato a costruirsi e ci sono tutte queste contestazioni, pure, diciamo, anche questo malessere che ci sta. Probabilmente fra le persone che non si conoscono poi possono venire, diciamo, degli interessi diversi. Però per me la politica, quando sento parlare di principi, in genere si parla dei principi astrati, si parla di rivoluzione, di democrazia, di cambiamento. Sono tutti principi che ognuno può dire quello che vuole. I principi devono essere fondati sulle cose concrete, in modo che devono tenere un punto fermo, perché i principi sono fonte di ispirazione dei nostri pensieri e delle nostre azioni. Questi sono i principi. Se noi abbiamo, diciamo, delle cose concrete da proporre, quindi chiaramente ci sarà qualsiasi mobilità, e quindi voi vi fate, chi viene eletto, si deve fare il portavoce della soluzione di quei problemi che chiaramente bloccano l'emancipazione dei cittadini. Perché quando sento, diciamo, io non seguo molto la televisione, non mi piacciono neanche, diciamo, le polemiche, lo dico con estremolistà, perché molto spesso, quello che viene detto per televisione, molto spesso è solamente una piccola parte, non c'è mai un pensiero completo. Quindi ecco perché li lascio. Io sono, diciamo, abituato a costruire nella vita, è per costruirci con la collaborazione, ma la collaborazione non deve essere fatta, come si dice, la collaborazione deve essere fatta per creare una coscienza rivoluzionale, una coscienza che modifica le situazioni, perché parlare di rivoluzione senza avere una consapevolezza delle cose da fare, è una parola. Ma io adesso mi sono scritto questo, ho solo due parole, finisco. Perché la gente dovrebbe votare adesso all'elezione europea e al Movimento 5 Stelle? Che cosa proviene? Di concreto, diciamo, noi ieri sera abbiamo sentito, diciamo, alcune cose, interessanti, però penso che stanno molto lontano dalle esigenze dei cittadini. Allora vi ho detto che la politica deve essere fondata sulle esigenze primarie dei cittadini, in modo da dare una soluzione che i cittadini possano vivere meglio, con maggiore serenità e con maggiore sicurezza. Ho chiuso. Questo è quello che ho detto. Hai qualche domanda specifica? La domanda non ha niente specifico. Ok, grazie. Qualcuno vuole intervenire? No, 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 la domanda c'è. Ci dovrebbero votare, io ti dico quella che non vorrei che fosse mai la risposta, perché siamo almeno peggio. Io questa tua sensazione la vivo chiaramente, nel senso che come Dio ho letto i punti che sono stati proposti, le famose modeste proposte che però vengono sostanzialmente da idee che Becker ha raccorto, immagino da vari punti, che io non conosco, avrei, auspicherei, però penso che ormai sia oggettivamente tardi, che un programma per le europee come per le comunali fosse comunque il frutto di un dibattito nel rete. Un dibattito che però siamo già troppo avanti per portare. Quindi sì, se questa è la perplessità, dico sì, anch'io mi sarei aspettato un maggiore coinvolgimento nella costruzione di un programma da portare europeo che trattasse anche punti, non che quelli di trattare non siano importanti, ma magari forse, lo dico così, più terra terra, più vicini al sentire comune alla necessità che si avverte nel paese. Perché poi portare distanza il nostro paese in Europa chiaramente è fondamentale, perché fino ad oggi nessuno l'ha fatto. si sa che chi fino ad oggi è andato al Parlamento europeo è sostanzialmente andato a svernare. Questa è la rappresentanza che abbiamo al Parlamento europeo, è una rappresentanza subina a chi va, ai paesi che vanno al Parlamento europeo a determinare la politica europea, noi siamo andati a firmare le regate. Quindi io, a parte accogliere la... Io ti ringrazio e spero che magari ci sia qualche volta anche fra quello che voi conoscono di approfondire un po' con me i tavoli che stiamo facendo, perché ci sta un altro tema da affrontare, lo dico adesso che metterò in seguito, la casa di proprietà per tutti. È un progetto politico in modo in cui ognuno possa vedere il frutto del proprio lavoro. Queste sono proposte che dovremmo discutere fra di noi, però molto spesso chi non ha questo problema non è solitare per chi non ce l'ha. Ecco, allora come si fa la rivoluzione culturale se c'è questo egoismo nell'essere umano? Ci vuole una soluzione di superare da questo. Ma come lo superi? lo superi e anche... Con fondante, non ti preoccupare, mi stai andando, non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Perché non c'è mai tempo di discutere in modo approfondire. voglio cercare anche quello che ha detto Giuseppe ricordandomi e quindi con la speranza che in realtà anche se c'è poco tempo si faccia che nell'ultimo incontro che abbiamo avuto tra noi e che forse si è mancato poi mi sarebbe raccontato l'ho scritto l'ultimo incontro l'abbiamo fatto post-vitretina con la Boldrini quindi c'è stato un incontro tra i portavoci Grillo in una specie di sala e tra le varie cose io chiese a Grillo un punto dei sette che era l'allevamento che io ho in interpensità sulla priorità di questo punto perché sono animaliste quindi gli allevamenti in generale mi direi comunque quantomeno specificherei quali tipo di allevamenti andiamo a finanziare. Comunque, a parte questa domanda che ho fatto a Grillo che ho avuto una pazzata risposta e gli ho chiesto ma si farà il programma dell'Europe perché insomma a metà dei sette punti quindi poi dobbiamo andare lì a portare qualcosa di concreto lui mi ha detto stai tranquillo mi ha carezzato un volto con il Papa stai sereno stai sereno stai sereno però mi ha detto non ti preoccupare faremo in rete il programma quindi io penso che lui in testa sua ce l'ha per rifare in rete non so un po' di tempistico ma speriamo che ha saluto che ha saluto che è benedetto chi è benedetto ah benedetto ma devi un rumore che sei guarito no va bene andiamo avanti Cirilli Ottavio metà caldina tavolo 5-6 agricoltura da poco allora io no io dico faccio parte dallo effetto voglio affrontare la loro questione molto più pragmaticamente allora noi siamo partiti con questa con questi scopi come avvenne illustrato Sandrana faccio delle considerazioni concrete da quando siamo entrati abbiamo messo dei valenti abbiamo messo abbiamo detto alla società italiana il problema dei soldi ridati alle alle imprese che devono essere filtrate dalle banche e il movimento 5 stelle si è messo per terra per il traverso ha fatto la banca d'Italia quindi diciamo che delle azioni il movimento ha fatto e pigliamoci per piacere pigliamoci sono importati ora abbiamo visto poco fa per piacere che è successo e semo quanti abbiamo a quarantina è normale che ci siano delle dinamiche c'è un assestamento io capisco anche il disagio dell'eglista che lo percepisco come sincero e duro però la domanda se lasciamo perdere quindi andiamo avanti ci saranno da fare delle battaglie ma intanto stabilizziamoci portiamo avanti i nostri programmi facciamo le battaglie comuni dopodiché pian piano uno cattivo se ne va uno buono entra e se spulgherà la situazione che arriverà una sedimentazione importante che noi dalla base abbiamo sempre questa volontà di partecipare voi magari se venite qua una volta ogni 45 giorni ci raccontate in diretto come è successo perché magari voi che non hanno tempo di stare su facebook magari ci raccontate così saltiamo pure la comunicazione e dovete andare avanti dovete andare avanti voi le ricevute queste cose sicuramente però se lasciamo perdere che fine fa? questi non stanno aspettando ci stanno a copia tutto cosa? Vieni un occhietto qua che sta a copia tutto non ci stanno a copia le cose abbiate l'azienda noi abbiamo usato degli strumenti scusate degli strumenti che ci stanno copiando non ce ne siamo accorti di questi quello che va all'altro quelle slide che fa vedere che è splendido il pesce rosso queste cose queste sono tutte cose che sono state iniziate da grido due anni fa e poi quindi cambiamo gli anni verifichiamo registriamo tutte le situazioni ma non lasciamo assolutamente anche se i disagi non hanno detto non andranno e come hanno detto gli altri ci stanno ma non morriamo se non andranno se registriamo le cose anche il discorso demorra che è andato là prima rato sicuramente non se devono fare un atto d'accusa non ha ricapitolato tutte le cose che hanno fatto tu vai e devi fare andare in previsione solo esclusivamente per sostenere le due ragioni con le scelte e con le votazioni che si fanno dopodiché la comunicazione si può per esempio cominciare a saltare anche con questo sistema quindi io sostegno a Cristian costegno a Gesetta a Ivana a tutti quanti a Gaia però non morriamo l'osso assolutamente perché altrimenti prima è quello che stanno aspettando e secondo probabilmente non andiamo anche la prima e pensiamo attivo abituiamo che abbiamo quali sono i limiti e probabilmente anche loro verranno a più mili consigli c'è la come dire lo staff è il dirigenziale del gruppo io questo io ce lo posso grazie Ottavio aggiungo una chicca perché mi hai fatto pensare tu aggiungo che De Marchis ha fatto parte dei mitapp all'interno addirittura sono una sorpresa sto parte sulle le vini io chiamo mitapp però ieri ha avviato gli incontri con la cittadinanza allora io mi ricordo di fare un mito di mettere una mitapp sotto la sede di man è veramente divertente la cosa che fa che questi sono che sono quelli che hanno permesso perché ricevono il fianco a quell'altro delinquente dall'altra parte allora sono rimasto redenti sì perfetto a ogni intervento chi vuole può no professionalmente innanzitutto sono dato l'impressione che stiamo guardando sono molto stressato forse si vede perché comunque certe atmosfere che si descrivono anche al interno di gruppo alla camera posso immaginare se ce l'ha zionato come l'immagine perché poco ti raccontano quindi fanno lavorare non ci fanno vivere bene l'esperienza a volte poi io parlo molto bene a molti colleghi cioè c'è proprio un rapporto buonissimo infatti di rispetto no di rispetto e comunque non evito sicuramente di sconti comunque in assemblea dico tutto quello che dico a voi naturalmente non voglio mollare perché al massimo non ho il coraggio di buttarmi fuori e di dirmi perché ne buttano fuori quindi devono raccomentare e devono comunque però il dubbio l'unica cosa nel discorso che hai fatto l'unico dubbio che mi viene a me è che tu hai detto piano piano ne uscirà uno cattivo e ne entreranno uno buono il rischio è invece che vedo io ma magari spero di sbagliarmi è che con l'evoluzione è da movimento al basso concentrazione diretta movimento di opinione movimento di massa no? del tutti a casa del vinciamo noi eccetera che serve per vincere le elezioni naturalmente però poi dopo non ti restituisce degli attivisti delle persone veramente che vogliono comprendere che vogliono lavorare per il bene comune il rischio è che proprio anche l'evoluzione anche la trasformazione di portavoce sia quella la modalità diventi diversa e troveremo tutti i portavoce che poi saranno magari mi sbaglio poi saranno però coloro che portano i consensi ma che non hanno magari i contenuti o che non portano i contenuti e quindi invece di buttare quelli cattivi in tre cittadini poi piano piano ce ne faremo al contrario eh ho capito allora significa che fragina la base scusami perché a questo punto è così perché a questo punto significa che la base vuole questa ora c'è una giura e qui non lascia aperte e fregare ora è poco non lo facciamo dibattito perché sennò potrebbe fare candidato ma la base non è buona il problema è che se non manteniamo questo contatto diretto con la base quello che succede rischiamo di perdere la base buona perché sintetizzo penso che la prima del concetto è che alla fine se diciamo quelli che vogliono portare i fatti contribuire si vedono scavalcati dai tifosi dai supporter alla fine si scoraggiano e non particino che i tavoli e si davano quello che è successo in Sardegna è successo in Aprile è successo a San Paolo che abbiamo vissuto dal discorso allora a questo punto bisogna che la base prenda coscienza e abbia i dati oggettivi veri su cui ragionare altrimenti tu dai degli input il programma ti adatto il risultato ma se gli input sono sbagliati il risultato è sbagliato ma siamo voi che bisogna prendere i dati giusti e veri e questo lo possono fare loro dicendoci le cose quindi tu dici magari fare più incontri certo non è che questi vanno a loro con il tuo giorno non è perché trovare un sistema di comunicazione più efficace tra l'anno va bene ragazzi allora Stefano Donofio mute la cena mi tappi la cena sì mazzo perché così magari se non ci vediamo tu niente io volevo partire praticamente facendo dando un consiglio magari a Christian e Giuseppe di evitare di scrivere di fare determinanti commenti su Facebook che per per via o su Facebook o comunque sia sui giornali dopo in seguito vabbè sui giornali no non dice in generale sui giornali anche su te i giornalisti possono anche copiare ciò che vuoi scrivere e lo fanno diventare una cosa perché voi non ci sono compie scusate Facebook perché dopo comunque sia si vengono a fare determinate situazioni e poi quando la domenica o il sabato andiamo ai banchetti la gente invece di chiederci ma senti ma che state facendo qua a Peracino o che state facendo qua a Lachino ci vengono a chiedere ma Cristian Iannuzio Giuseppe Pacciano Ivana Simeoni hanno detto questo quest'altro spiegaci un po' come funziona e ci perdi tempo è anche abbastanza spoggiante diciamo la parte nostra poi un'altra cosa per quanto infatti il caso occidentale Cristian corregge se sbaglio ma a inizio mandato non io vi ricordavo un caso Mastrangio per esempio io mi ricordavo che tu eri uno dei primi che ovviamente cioè giustamente era un personaggio da prendere per cacciare fuori a calci nel sedere ti dico una cosa abbiamo pensato l'ultimo essere imballonato alla metà di no lui è la terracina 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 ma ce l'ha fatta passare no ma lui sta ritentando adesso per l'amor di Dio però cioè già con questo che è un caso secondo me giusto di escuzione capiamo che in determinati casi l'escuzione è più che giusta se non regolamentata in questo caso io direi che per esempio personaggi come Francesco Campanella non so magari Giuseppe lo conosce meglio io li avrei cacciati molto prima ma veramente a petare nel sedere perché comunque sia se tu andavi sentivi da lui sentivi solamente critica era qualcosa veramente di allucinante Orellano è stato sfiduciato dal territorio sotto dal punto di vista del regolamento magari questo secondo me andrebbe regolamentato un po' meglio perché non c'è sul codice di comportamento una voce apposita per questi casi però andrebbe regolamentato però ovviamente per quanto riguarda la trasparenza ecco io volevo dire semplicemente che lo streaming va bene però secondo me a me dello streaming delle bag interne insomma non è che interessi tanto cioè in un senso lo streaming va bene io per esempio sigo spesso gli streaming che fate al senato cioè un conto è fare uno streaming su proposte eccetera proposte di legge o cose che volete fare un altro punto è uno streaming incentrato su non so questioni interne o qualsiasi altra cosa per quanto riguarda i talk io ricordo benissimo le parole di Grillo su riguardanti i talk sì velocemente era diceva che era un pollaio ok lui chiamava i talk pollaio in cui tu non riuscivi a esprimere la tua opinione io non so se voi l'avete visto ma io per esempio ho visto ieri Barbara Lezzi da servizio pubblico e per me se quello è il modo in cui dobbiamo andare in televisione decisamente più che bene perché comunque sia ha esposto da due minuti perché è stata la rete l'ultima cosa volevo chiedere la domanda per quanto riguarda quel famoso documento di cui si è parlato l'ultima volta che abbiamo fatto un'itap provinciale a Grillo e Casaleggio sono passati quattro mesi di occasione ne avete avute secondo me proprio tantissime Giuseppe tu ci hai fatto una conferenza stampa insieme con Grillo cioè di occasioni ne avete avute tantissime per parlare con Grillo e Casaleggio a parte le carezze che vengono da raggiungere e dopo l'ultima vorrei dire che noi comunque sia siamo un movimento che è in crescita e che penso che anche voi non pensavate che fosse una passeggiata prima delle elezioni nazionali non è una passeggiata però secondo me è da considerare dobbiamo considerare che sta un movimento imperfetto in continua crescita grazie Stefano chi vuole rispondere solo per la questione di tanti incontri con Grillo e Casaleggio io ho incontrato Grillo che ti dico Grillo il giorno ci siamo incontrati lì mi ha detto tu chi sei io sono quello che devo fare con la stampa lui è stato tutto il tempo il giornalista si è seduto ha fatto la sua parte la conferenza stampa lui è stato tutto il tempo il giornalista questo è stato un incontro quindi questa informazione che tu mi dispiace darti una delusione ma non c'è il tempo di parlare con Grillo quando Grillo viene da noi o viene per fare una visita di incoraggiamento oppure viene per fare una conferenza stampa come è stata la mia dove non c'è nessuna possibilità di battere quindi non è così sulla questione delle persone che vengono ti invito il mio indirizzo è pubblico non dovete inventarvi niente io rispondo anche a 300 mail al giorno di persone che fanno questo tipo di Grillo mandatevi il mio indirizzo sarò felice di rispondere personalmente non dovete farvi carico voi inventarvi le cose o dare risposte al conto nostro se hanno perplessità sul mio conto devono chiederlo direttamente io autorezzo se vi chiedete direttamente ho preso come esempio no no ti dico però mi fa piacere che mi voglio piacere a rispondere ho piacere proprio a rispondere e tante volte rispondo a persone che si pongono criticamente dopodiché conveniamo alcune cose il mio ragionamento era diverso cioè magari le persone interne mantenere le interne i bandi sport che si davano in casa non è molto movimento te lo dico i bandi sport che si davano in casa molto andrò no non è molto andrò si però c'è nel senso abbiamo il caro di fatto che la fucsia non è il caro di limbo scusate 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 i pano voglio aggiungere una cosa sì allora io adesso ho seguito un po' tutte le cose insomma sono tutte giuste come è stato detto le politiche le posizioni le opinioni quello che però volevo dire una cosa che diciamo noi siamo sottoposti a non so che la possessa pazzesco perché all'interno all'esterno stanno uccidendo delle cose innumerosimili cioè delle cose che nessuno si non sapevamo quando andavamo in guerra ma quando andavamo in guerra con i nostri con le persone che ci circondavano e con i nostri mitap si stavano criticando cose assurde che mitatti di tre persone sfiduciano un portavoce e si fanno una guerra tra loro cioè sta succedendo una guerra punica cioè io vorrei soltanto capire e l'ho detto anche a Grillo e l'ho ripetuto anche a Casaleggio ma come bisogna fare in questa situazione di guerra tra di noi se ne possiamo uscire bene un attimo una luce perché io sono molto scoraggiata di questa cosa cioè vedere che veramente in Sardegna in quel casino qui quello in Napoli sfiducia un altro un portavoce che non è manco loro è da Cerra quello da Cerra sfiducia quello di Milano quello di Milano è quello da Risiglia tre persone due persone una persona io alzo la mattina e dicono quello non mi sta bene scrivo cioè questa è una cosa che mi sta mandando veramente in paranoia cioè io non trovo non c'ho più i punti carni della situazione noi siamo partiti da qui con delle idee ben chiare cioè andiamo a portare questo questo dobbiamo portare alla politica non dobbiamo portare questa scusate l'espressione questa merda è una merda è una cosa continua cioè quello fa questo quello fa quell'altro tutti agguerriti bruciamo quello le streghe cioè io mi sento male io mi sento male ecco io sto così io mi sento male e l'ho esternato e l'ho detto cioè io volevo un attimino che ci fosse per tutti i mitap l'ho sempre detto anche da Giango Giango perché non ci contattiamo un pochino per tutti i mitap e cerchiamo di capire una linea con noi di dialogare di fare i fin dei conti è vero saremo 200 300 non so quanti mitap siamo in Italia 500 non ho idea di quanti siamo ma ci si può arrivare a capire quanti siamo e magari tra di noi ma avere un minimo di comunicazione cercare di creare una linea forte tra di noi non è guerra e comuni questo è una guerra e comuni grazie grazie posso dire una cosa che voglio riguardo vabbè voglio fare due due cose ma qualcosa giusto Giuseppe riguardo a la gente che viene ai panchetti noi abbiamo fatto i panchetti con una lontana ma è che è una lamentera no 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 ma perfettamente la capisco l'ho anche vissuta volevo dire l'ho sempre vissuto ad ogni posto chi ha fatto con noi il panchetto quando facevo un posto che sparava a zero arrivava la gente al panchetto diceva ah sì di voi mi piacete condivido la vostra battaglia ma perché Brillo fa così ma perché Brillo dice questo ma poi è successo che gente che si legge soltanto il titolo o guarda soltanto il giornale o fa la cosa viene a polemizzare sul panchetto è sempre successo allora io spero di aver espresso un motivo per cui ho preso una posizione riguardo le istituzioni fatto in quel modo lì e perché ho espresso una posizione riguardo al talk in cui ho partecipato un'ora penso che sia legittima non condivisa da tutti è prima la sua opinione però penso che sia legittima soprattutto sia delle regole che ci siamo dati fino ad altri poi domani cambiamo la regola e togliamo i talk da regolamento io ho capito poi decido io se poter stare in un movimento che utilizza la televisione un strumento di comunicazione prioritario o no però voglio avere il sito di poter dire c'è una regola bene che ha rispettato lasciavano un piccolo dopo di che chi sta nei banchetti lo sa che è soggetto a qualsiasi tipo di disinformazione o di superficialità che viene portata a una frustrazione ai banchetti ragazzi se mi ha capito mi dispiace che magari con un mio posto ho messo in difficoltà però se uno una cosa la deve dire e io sono una persona che mia di massima sono trasparente sono diretto è sempre stato così chi mi ha votato alle parlamentarie lo sapeva e forse mi ha votato anche per questo perché sapeva che un giorno sarei venuto da voi a dirglielo o che avrei scritto una cosa che non andava se non potevo prendere un'assemblea voglio dire fin quando ci starò io la mia linea è questa qua noi siamo trasparenti e siamo diretti e cercando di far meno danni possibili al movimento però quando ce ne è bisogno dopo l'ho detto venti volte in assemblea dopo che io lo dico anche in pubblico me lo assumo le mie responsabilità e credo che serva anche esprimere una posizione diversa da quella che è uscita sulla televisione perché se morra ha la possibilità morra con un altro da andare a televisione dire tre cose che sono contrarie al movimento come che Casaleggio sia il garante del movimento io ho il diritto di dire in un post guardate questa è una stupidaggia perché Casaleggio non esiste come ruolo come personalità nel movimento poi se ce lo vogliamo mettere ce lo mettiamo modifichiamo il nostro statuto inseriamo Casaleggio è il garante del movimento però lo facciamo chi lo fa chi lo deve fare e chiediamo sta cosa questo è il termine ok grazie c'è un documento vogliamo sapere sul documento un documento di cui si era parlato di TAP che fine ha fatto il documento sono passati 4 mesi il documento è rimasto lì onestamente perché era già firmato no hai mai detto che era un documento per quanto riguarda il gruppo di comunicazione che era già firmato che doveva essere cioè che stava in no 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 c'è un documento un documento su Google Drive che era in elaborazione da parte di alcuni portavoce poi gli eventi hanno superato quello perché sono successante cose per vari motivi non l'abbiamo più portato avanti ma i punti sono rimasti gli stessi il problema è che onestamente noi tutti speriamo che a un certo punto arrivi Grillo che dovrebbe fungere la garante del movimento e dica ragazzi qua si è superato un limite fermiamoci un attimo e noi siamo sempre in quella speranza poi non succede ci rendiamo conto che i fatti superano la fantasia e quindi però il documento è rimasto lì e non è stato non c'è stata neanche l'opportunità di portarlo a Grillo poi non so se non c'è stata l'opportunità abbiamo avuto poi l'incontro a Grillo ma tu dopo la biglottina ma io da sicuro che fa una domanda in mezzo a quella boccia a farmi una se riuscito a farmi una è stata una difficoltà allucinata che eravamo la frucsia scusate devo chiedere la frucsia magari se si allora una cosa Gaia qua sono 14 persone che vorrebbero intervenire 2 minuti premio al tempo facciamo 43 minuti 4 45 quindi se tu volevi inserire il tuo argomento e inglobano è tutto perché non mi riesci a non parlare più oppure parlo non mi riesci a non parlare visto quello che poi esce qui da loro c'è una cosa che si integri bene anche con la situazione quindi cosa quindi magari quando tocca a me integro anche questa cosa e poi chi vuole intervenire va benissimo ok grazie allora continuiamo con un pagatriso di tappa di Aprilia non so di qual è Rauro in tre parti comunque lo vedi tu buonasera il discorso secondo me diversi paesi sono stati più che condivisibili problemi ce ne stanno troppi il discorso dei meet up forse si sbaglia a dare troppo peso a tanti meet up per tanti motivi semplici prima del 2013 in meet up spingeva il carretto l'attivista spingeva il carretto dal 2013 in poi l'attivista prende l'aereo non spinge il carretto cioè in realtà appunto noi facevamo in meet up con 15 persone subito finire le elezioni ciò ciò abbiamo i testimoni dentro una stanza accettavamo 120 persone finito le elezioni l'ondata sappiamo quello che è successo a video sappiamo tutti siamo 15 20 25 a scornarsi ma scornarsi del tutto e problemi restanti è questo qui il discorso dei meet up che purtroppo come dicevano coordinato l'antività non è semplice non è semplice quasi impossibile anche perché non trovi la genuinità come fa a distinguere l'attivista l'ultimura dall'opportunista dell'evecchia data qualche cosa no no anche dell'evecchia data perché il carro è diventato un emeto punto quello e quanto riguarda il discorso di Sidenti io con Cristian non condivido il modo alla fine perché ci può stare il discorso solitarico con chi è stato segato totalmente però se fossero stati coerenti si comportavano come i cinque romani tutti come romani e invece non si so comportati come romani come i cinque dimissionari ma obiettivamente se io ho un'azienda privata una mia azienda un dipendente mio si dimette io purtroppo dovevo segnato ma io non posso capire chi luce scusate ma io non posso capire chi luce indivisionaria concludi il tuo intervento da quel tuo per mia coerenza per mia coerenza se io credo in un progetto arrivo a un tragitto in questo progetto non ce ne vedo più mi dimetto devo aspettare che mi raccano poi ovviamente leader burocratico comporta che rimangono e coerentemente non vanno in un gruppo misto non vanno diciamo si mettono in contrapposizione con la base comunque rimangono divisionari è ben diverso da quelli che sono stati espulsi e anziché dimettersi cioè se te ne è il posto loro magari c'è il distinto ben preciso su nove persone cioè 4 secondi comportavano 5 secondi io personalmente pensavo che prendeste diciamo una funzione diversa poi ovviamente siete uomini come tutti voi e ognuno può prendere la sua anche perché tu hai ti ricordo anche a Giuseppe di Gesè parlare su queste cose non parli comunque parli comunque come personalizzata dopo di che ovviamente Gesè sguazza e fanno tutte queste cioè si mangia intorno quei giornali e compagni a pelle però per il resto il discorso dei mitaf è importante bisognerebbe distinguere un attimino dal mitaf dall'attivista e dall'opportunista proprio di che andiamo avanti con il senso grazie a riguardo io non ho mai solidarizzato con a me non mi pare poi il tiro se avete trovato qualcosa con i quattro espulsi non ho mai solidarizzato ho fatto una questione di metodo abbiamo sempre fatto una questione di metodo cioè da come è andata l'assemblea da come è stata organizzata come sono gli elementi proprio di chiunque fossi trovato lì tutto è stato organizzato per le sfalle delle qualifizioni senza darci l'opportunità in me nell'assemblea che precedentemente di capire effettivamente a tutti non solo a noi che abbiamo deciso della sembra di un punto sì ma probabilmente è vero io in parte guarda io ho due su quattro sicuramente l'avev espulsi il campanello però il problema è che in qualsiasi organizzazione se adesso qui noi dobbiamo rappresentare in piccolo quello che vorremmo per la società in grande se c'è una società qualsiasi che fa dare la pre-morta uno senza processarlo qualcuno di noi direbbe cazzo vabbè l'ha ammazzata però esiste un diritto no? nel nostro piccolo diritto ci sono quattro regole sono poche ma dovrebbero spiegare bene ma almeno quella da rispettiamo il metodo delle espulsioni non ci ha convinto non ci è piaciuto abbiamo fatto dirlo in più ancora di più le espulsioni date ai cinque dimissionari dal senato non dimissionari dal movimento cioè persone che hanno dato la dimissione al grasso per l'istituzione non puoi ma stanno cacciato dal movimento con un post Federico va bene andiamo avanti allora adesso vorrebbe parlare mister Ixer perché si è firmato con non lo so quindi il bocciato stai in terra ma è un gruppo più questa che ci vuole si sto spessando di mettere l'altro quel dietro che senti da dove allora molto provinciale regionale per decisioni grandi Bernini Aprilia si stavo leggendo la preparazione no vabbè già hanno detto già nel tempo ho cambiato lo sentito delle distruzioni io stasera volevo stare qua a parlare magari dei regolamenti interni che servono proprio per far imitare queste cose perché serve la base perché altrimenti non andiamo da nessuna parte quindi dovremmo ricominciare da lì ricominciare perché noi ci abbiamo avuto aprile tantissime ma come aprile comunque già l'abbiamo detto l'hanno detto altri quindi bisognerebbe fare questi provinciali regionali quello che è per creare una base poi dopo noi siamo un movimento con democrazia liquida l'abbiamo detto quindi una piattaforma ci serve quelle su quelle cose lo strazio che ci avete voi in line ma io lo comprendo benissimo perché è straziante vedere che quello che avevamo detto non è stato portato avanti perché avevamo detto che la piattaforma ci sarà e non c'è avevamo detto che è una democrazia liquida e non c'è perché poi dopo si è fermato il processo non è andato avanti dobbiamo ripartire da sotto però appunto faccio pure a te perché a noi ci metto in crisi a volte perché noi ci troviamo magari a rispondere io non rispondo più a rispondere a De Tron io mi sono trovato una sera rispondere sotto un posto di Campanella alla fine alla fine alla fine sono diventato un amico con questo che è che è che è che è che prende 4.000 euro al mese per fare quel lavoro qui insomma non puoi imponere loro fanno una guerra ti fanno una guerra ma si mettono lì apposta infatti mi ha detto l'acqua qua un truccato detto vabbè non rispondo più è inutile che sto a me non ha parlato questa gente però rispondendo le classi addirittura allora c'è stato il deficiente il che è il più e poi la fine se a uno poi vedono una corda che si va tirà arriva il professore di filosofia a certo punto lui mi ha detto che avessi dovevano in chat privata quindi ripartiamo da noi noi ci abbiamo la facoltà degli file pro del movimento ma dal basso noi ci abbiamo poi adesso ci date la possibilità di regolamentare il tutto perché veramente ci sarebbe un regolamento buono ho chiuso e grazie grazie a te grazie ciao 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 ok allora andiamo avanti e a riguardo volete aggiungere qualcosa dovevo aspettare la seconda a posto marco a nizzone qui sono io e niente io sono scusami tu latina tavolo ha partecipato a tavolo no non partecipo a tavolo perché ho mandato le mail che non avevo purtroppo la possibilità la sera di poter essere in là ho mandato ho messo pure per iscritto comunque stasera mi sono liberato proprio per dire qui visto che ce l'ho preso perché se no sarei andato a bietti domani mattina in ogni caso come sono andato a roma l'anno scorso vabbè questo qui non posso per altri motivi sono iscritto al movimento sono faccio non sono 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 non credo proprio credo proprio in questo movimento non essere e qualche me lo tocca appunto appunto da questo motivo mi sono incazzato cosa del termine con christian quando mi dice grill e casaleggio chi sono ma scusate quando siete entrati in questo movimento non lo sapevate chi è va a portare in questo movimento non stato io o è stato grillo fatevelo capire voi per quanto riguarda no 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 non lo sapeva lui vorrei capire se poi queste qua sono degli impianti non sappiamo chi si ma di che cazzo stiamo parlando qui ma scusate veramente comunque poi siccome il tempo è molto breve era il discorso poi della mancanza di democrazia all'interno soprattutto dei senatori dei deputati sicuramente mancheranno pure democrazia però quando sono stati espulsi quei senatori che sono stati espulsi alcuni espulsi alcuni si sono dimessi non dimentichiamo si sono dimessi dimissione che significa che io non voglio più stare in questo movimento ma che cosa c'entra che io devo tenerli per forza ma stiamo scherzando e poi se lo dicevo proprio a Giuseppe a Giuseppe prima io ho assistito a queste signore a trasmissioni televisivi in cui c'erano soprattutto Orellana Campanella che ancora prima mesi prima che succedesse quello che è successo andavano in televisione cito trasmissioni televisive dell'A7 dell'A7 l'aria che tira per esempio o altre trasmissioni di questo genere in cui sparavano a zero contro il movimento contro la mancanza di democrazia e contro lo schifo che stavamo facendo perché poi il discorso è stato che la cosa che ha fatto che ha fatto crurare tutto è stato il fatto che Grillo è andato da Renzi che non voleva andarci poi è andato e si è comportato non è da quella da me ha fatto per questo e quello che sta succedendo in questo momento è la dimostrazione che quello ci ha riempito il bugio e dovevano andare a dirvi sì grazie poi vediamo se possiamo fare un accordo con te ma stiamo scherzando io questo grazie Marco e c'è qualcuno che vuole intervenire al riguardo su sta cosa di Grillo è interessante perché qual è il frutto secondo me dell'interpretazione sbagliata nel senso che quando abbiamo fatto la discussione in Senato che poi si è dimostrato inutile perché purfondamente poi è stato scettuto in rete se andare o non andare ma la posizione dominante era sostanzialmente quella cioè andare a Renzi e gli guarda io e te non ci abbiamo niente da spartire però questa era stata la posizione per cui poi qualsiasi altra cosa si è venuta fuori giornalisticamente noi quando siamo usciti dalla prima riunione l'idea era quella andiamo da Renzi e andiamo a dirgli quello che dobbiamo dire ma non era assolutamente ma io non ho parlato di te no 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 ma la mia hanno preso una scusa quella lì scusa no ma la mia era una cosa poi è un problema loro però nel senso non lo so non lo risponde non possiamo giustificarli quello che voglio che sia chiaro per quello che tu fai sei responsabile per quello che non fai e che io penso che potresti fare non sei responsabile finché non lo fai questo deve essere chiaro tutto qua ti rispondo al buono allora chi è Grillo e chi è Casaleggio in realtà io non ho detto chi è Grillo e chi è Casaleggio io ho parlato di il primo e delle funzioni di Grillo e di Casaleggio in realtà io se devo dirti la verità sono diversi anni di questo movimento io che è Casaleggio non l'ho mai capito e non me ne ho mai interessato perché per me Casaleggio come figura politica non esisteva è una persona che collaborava con Grillo lo abbiamo saputo più o meno a traversi informazioni non un ufficiale che non capito la cosa che c'è Casaleggio ha fondato con il movimento a un certo punto l'ha detto per essere molto dopo che noi ce l'avamo impegnati che noi eravamo andati in movimento però comunque prima è una persona vicina a Grillo con cui lui si consultava scusate un chiarimento perché quando siamo stati a San Giovanni la sera alla chiusura c'era pure Casaleggio sul palco lui ha detto quando ci siamo impegnati in tutti i relativisti nei movimenti la figura del Casaleggio non era prima adesso quello che si sa quindi io non tutto quello che abbiamo tutto scritto non esiste da Roberto Casaleggio allora quindi il discorso non è Casaleggio io parlo con tutti io sono c'era un ufficio e io chiunque del movimento si imparizza diciamo vuole venire a dare un contributo quindi del possibile io l'ho anche invito abbiamo ricevuto sindacati persone gruppi locali parliamo con tutti quindi io posso parlare anche con Casaleggio però se Casaleggio chiede un incontro per definire delle questioni del programma in funzione di cosa lui viene in Parlamento a parlare o addirittura a parlare di dinamiche interne ai gruppi parlamentari che noi siamo parlamentari formalmente rappresentiamo i cittadini abbiamo una figura anche di responsabilità con che ruolo viene Casaleggio a discutere e a coordinare le varie diatribe che ruolo ha se io sapessi che Casaleggio è ufficialmente il portavoce di Grillo già sarebbe per me un chiarimento per dire Grillo sappiamo che il capo politico si è definito il aiutamento garante la vostra figura Cristian durante la scusate durante la propaganda elettorale chiamiamo così sì 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 dimmi di perdonare grazie ce la facciamo quindi Grillo che io nessuno ha disconosciuto io non ho mai detto Grillo chi cosa io l'ho sempre stimato in quanto figura che è politica che ha portato all'esistenza del movimento che ha trascinato e che dà un contributo attivo quindi io condivido il movimento quindi condivido Grillo quando dà un contributo nel momento di Grillo ha un ruolo politico attivo da quando siamo entrati in Parlamento che lui è capo politico scusate io vorrei a garanzia di tutti a garanzia di tutti noi che fosse definito il ruolo capo politico oppure delegato delegato di Grillo non capisco se non c'era capito quanto bene stiamo a qualche vedere questo Correllana e Campanella in realtà non li voglio difendere non mi interessano non sono amici miei non ho mai difesi però non è vero che hanno partecipato a questa nostra politica hanno lasciato interviste no che ho visto io questo no 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 se l'hanno fatta uno sbagliato se l'hanno fatta uno sbagliato se l'hanno fatta uno sbagliato sicuramente la parola basta Angelo Valeri mi dà chiedadina tavolo allora buonasera a tutti no io sono stato vittima proprio di un processo di pregiudizio legato al senso comune cioè praticamente ho votato sì per l'escursione ma vi spiego il motivo poi c'è una discussione questo ho scritto anche sulla barca di Cristian perché praticamente avendo secondo me chiaro quello che è il principio del meetup del movimento quando ti arriva in maniera molto veloce quindi con un metodo che è approssimativo che poi ho capito dopo e che succede dice ok guarda i meetup hanno sviluciato di loro rappresentanti gruppi parlamentari sì gruppi parlamentari ma anche invitati è uscito anche questo vedete anche questa è una notizia è arrivata proprio da vari gruppi in cui si appartengono sul Facebook di 5 Stelle praticamente da arrivare un attimo la votazione io ho preso la votazione così è una fede poi mi vado a leggere quello che scrive Giuseppe poi mi sono preso in discussione ma non se per sé perché ho votato sì forse ho votato lo stesso modo sì ma proprio nel metodo e questa è una cosa molto grave è una cosa molto grave perché praticamente faccio addio mi appulta faccio la politica perché io dovremmo fare un pochettino tutti perché se il movimento è un momento democratico in cui effettivamente ci siano tutti i presupposti per raggiungere un equilibrio di azione e di sostanza soprattutto un atteggiamento che porti la positività cioè queste sono cose che rischiano secondo me di dare veramente una declarazione sia a livello medialico sia a livello umano sono cose che hanno detto a me quello certe cose sono cose che hanno fatto il bravo di Cristian a livello sensibilità come di Giuseppe perché noi alla fine siamo esseri umani e questo fermo restando tutti gli errori umani che può commettere una persona questo è il primo aspetto il secondo aspetto quindi questo è stato il mio atteggiamento e chissà quanti come me magari hanno votato coemotivamente o hanno votato con pregiudizio quindi alla fine fino a che punto fino a che punto è giusta quella osservazione questa metodologia di votare così in maniera così veloce e approssimativa buona domanda buona domanda non la verità in mano grazie l'ultima domanda invece voi avete filmato il codice e anche il discorso della comunicazione siccome io mi piace ragionare sulle carte praticamente c'è un problema con la comunicazione quello che avete filmato e sto obbligato a farlo cosa prevede perché alla fine quello che sta succedendo con queste persone che sono state messe a live e che diventano non piacciono a nessuno almeno quello che sembra di altri partiti come è avvenuto questo processo come si è trovati mischiati in questa cosa prima di essere eletti non lo so vorremmo provare il codice di comportamento risposta il codice di comportamento è pubblico cioè se tu cerchi i codici di comportamento è sul blog ed era una degli step che abbiamo potuto fare quindi diciamo a scatola chiusa per la partecipazione fra l'altro lascia margini interpretativi abbastanza ampi nel senso che parla di organizzazione quindi non è che specifica esattamente cosa questa fase organizzativa debba riprendere e nei fatti poi i risultati sono quelli che sono non so come sono messi cioè forse loro la camera sono messi un po' meglio da noi sono forti critiche neanche nelle modalità con cui questi nostri addetti alla comunicazione svolgono questo lavoro l'ultimo esempio ce l'abbiamo avuto non so quanti di voi hanno saputo che noi siamo stati a fare la scorta civica di Matteo andati al maxiprocesso se non che noi abbiamo prima un po' da mentre eravamo lì davanti quella foto che avete visto l'abbiamo scattata noi dopodiché uno dei nostri ha mandato la comunicazione ha comunicato stampa e questa è la risposta matica quindi cioè è un po' diciamo approssimativa purtroppo questa cosa e anche quelli diciamo più integralisti dei nostri stanno cominciando a fare una riflessione serie anche perché questa gente guadagna bene quindi deve lavorare bene e non sempre lo fa evidentemente non sempre lo fa perché le informazioni soprattutto almeno per quanto riguarda noi del Senato che abbiamo forse meno riscontro mediatico fanno molta fatica a uscire quando escono anche in maniera approssimativa con errori con vengono fuori dei dati che non sono corretti e poi tocca correggerli quando è possibile di no che si è fatto danno quindi ci stiamo un po' riflettendo però purtroppo con questa cosa che abbiamo firmato le nostre margine operativi sono molto molto ristretti grazie Giuseppe io personalmente non ho mai negato nulla di quello cioè il documento lo ripienzo in pieno e cerco di rispettarlo in realtà il documento è un po' interpretabile però definisce l'italiano io non ce l'ho cercato quando l'ho non parlare tra corsa definisce che l'organizzazione delle figure della comunicazione definisce per il libro ma no sono comunque a soggettarli ai gruppi parlamentari e se che le paghiamo quindi non è Beppe Grillo che o comunque chi per lui lo staff eccetera che dà le linee in pubblico infatti su questo qua sarebbe qualcosa che anche dovremmo cioè dovremmo essere gruppi parlamentari poi nei fatti non è così perché soprattutto al Senato ma anche da noi queste persone qua i responsabili della comunicazione in realtà lavorano in diretto contatto soltanto con lo staff e all'assemblea non ci vengono ovviamente mai se ci vengono non è per l'anno ora sopra non mi spesso va bene ok grazie Alessandro Bagliaro taclatina adesso il tavolo è la prima volta ecco piacere a tutti buonasera volevo chiedere fare due domande poi magari se possibile un appunto da uno per uno ma sono un cittadino che mi segue da tanto sa un po' tutto e vorrei fare qualche appunto o non a voi allora volevo sapere ma sono state le motivazioni che hanno sfiduciato da parte del territorio i 5 4 senatori che sono state espresse perché questo ho letto tra le righe che c'era il territorio che le ha sfiduciato o sbaglio era questo però le motivazioni per le quali poi sono andate al voto un sacco di gente io non lo potevo fare perché sono iscritto al meetup da una vita però poi mi sono iscritto al morimento più tardi del giugno del 2013 non ho potuto votare nessuno le sa queste sono andati tutti a votare sì e no come diceva il signore all'insapura Angelo scusa ho sbagliato fare domande e poi gli usano questa quale sono le motivazioni per questo stai sfiduciati una domanda poi dopo vabbè dopo dopo non vi pare che la normativa del movimento intero sia un po' troppo scarna per quello che è adesso il movimento cioè sono state date delle regole bisogna rispettarle però ci siamo trovati in un ambiente di ambisquali in 300.000 persone in 300 meetup in situazioni non calcolate prima non sarebbe il caso di provare a cambiare anche la normativa di farla un pochino più dettagliata non dico la norma di codice penale o procedurale però vedete di fare qualche altra cosa in modo che il primo pirla che vuole andare a fare il pirla non si può pigliare non c'è nel regolamento se sono sette regole è ovvio che io mi faccio altri 300 comportamenti che non vanno bene nei partiti non è regolamentata questa cosa grazie no no un'altra cosa blocco di grillo perché tutto deve passare dal blocco di grillo io ho un telefonino android non riesco a vedere video devo passare prima dalla pubblicità per poter andare a vedere quella cosa in realtà c'è un movimento 5 stelle punto it perché non diventa quella la cosa ufficiale chi gestisce le comunicazioni su blog di grillo i ragazzi hanno fatto un lavoro della madonna in questi mesi è incomiabile è incomiabile e poi il giorno dopo se ne esce Renzi più Berlusconi uguale Mussolini cioè la mia madre che sta a Siena a 73 anni non ha internet vede la stampa che mette sta minchiata scusate il francese sta minchiata di Beppe Grillo che va a Beppe Grillo chi per lui va a inficiare tutto quello che è stato il gran lavoro di questi ragazzi grazie Alessandro certificazione quando cavolo sceretate voglio votare anche io non dipende da noi non dipende da noi ho mandato documenti e grazie allora chi risponde su riguardo su riguardo le motivazioni che ho portato in Italia di Siena in realtà io ho un'inizio diretta perché ho avuto modo di parlare poi non ho raccontato lo stipulato ma sono abbastanza certo sono abbastanza l'interno da fatto del mio collega Rizzetto che mi ha detto che è nello stesso territorio di Battista Lorenzo Battista che è stato uno di quelli espulsi che nel territorio non ha mai sfiduciato e quindi su Lorenzo Battista ci è stata una sfiducia infatti non è uscita il vento sul blog per premesso che io non mi sta simpatico e non ho condiviso molte le cose in cui si uscite di Lorenzo Battista e che probabilmente l'avete anche espulsi ma sono state motivazioni ma che era un destello però uno come il mix avrà addirittura di voto seguiva di quanto gli altri senatori su L'Orellana credo sia uscito un comunicato che diceva che lui non partecipava alle attività territoriali quindi non interagiva pure lì non ricordo chi per cui non voglio dire cose senza portare il peradetto meteorologico però forse c'è qualcosa che non è stato smentito ok perfetto comunque riguardo i siciliani già l'ho risposto Giuseppe prima comunque dice infatti sono usciti due comunicati diversi prima uno di 15 persone che la studia 45 45 45 tra l'arattore ma facciamo un passo non dobbiamo mettere un processo allora continuiamo più grave puntate da Alessandro c'è altro? più che altro sulle dinamiche del blog cioè io sulle dinamiche del blog speravo che fosse più chiara la cosa ma il nostro intervento sulle dinamiche del blog è zero cioè i parlamentari o il blog possono dargli il suggerimento che tu puoi dare mandando una segnalazione cioè io quando ti auto con lo staff gli devo scrivere una mail e gli dico guardate c'è questo problema stessa cosa per certificazione non dipende da noi, non dipende da loro e a me tante volte avrivano segnalazioni da gruppi territoriali che mi dicono abbiamo avuto un problema per favore segnalate allo staff cioè il segnalate allo staff mio è il segnalate allo staff tuo io non ho un canale privilegiato ma poi i parlamentari non avete una forma di rappresentazione a questi che curano Alessandro Alessandro questo qua però può essere anche secondo me la 5 stelle questa è anche una garanzia il fatto che voi sappiate che noi non abbiamo corsie preferenziali è una garanzia per tutti voi che noi non possiamo neanche abbandaggiare un gruppo su un altro il problema è che a fronte di una impossibilità nostra di avere una corsia di poter dialogare col blog non c'è nessun'altra chiarezza su chi può comunicare con il blog quello è la garanzia il problema è che se unità vuole avere una risposta dal blog non ha garanzie questo è il problema non che noi perché noi non dovremmo servire a quello non dovremmo servire a portare le certificazioni altrimenti si creano le stesse dinamiche che si creano con l'antico non c'è nessuno non c'è nessuno